Lunedì 29 novembre, il Vangelo di oggi, primo giorno feriare d'avvento, ci racconta la guarigione del figlio del centurione da parte di Gesù. Gesù trova in questo uomo una fede talmente grande, lui stesso il centurione riconosce che non c'è bisogno che Gesù di persona vada, ma si fida della sua parola. Di soltanto una parola, il mio servo sarà guarito. Ecco, allora questa è la fede che Gesù cerca. Questo Vangelo ci è anche raccontato perché appunto racconta l'estensione della salvezza a tutte le nazioni. Diventeranno figli di Abramo anche genti che verranno da tutte le parti del mondo. Questo vuol dire che l'avvento, l'arrivo di Gesù a cui noi ci stiamo preparando è esattamente in una dimensione universale, che è quella che Papa Francesco ci ricorda sempre con la Fratelli Tutti. Quindi questa fede radicale, addirittura di un centurione, quindi di un militare, che si opponeva certamente al popolo di Israele, però appunto lì Gesù trova la fede bellissima e quindi vuol dire che questa fede la dobbiamo cercare anche noi ovunque, perché è ovunque che il Signore si manifesta e vuole essere riconosciuto. Buona giornata a tutti e ancora buon avvento a tutti. Ciao!